Dopo quattro anni di assenza più o meno forzata, l'Atenale Altino Volley torna nel suo storico impianto del Pala Silvestrina in pieno centro ad Altino e questa è una notizia positiva, l'amministrazione comunale si è impegnata molto per ottimizzare al meglio e superare tutti gli ostacoli burocratici l'Altino Volley che però riparte dall'AB1 dopo lo storico campionato dell'anno scorso in A2 Siamo a parlare con il Presidente Aniello Papa, intanto due battute sul passato e poi entriamo in questa nuova stagione un'annata amara culminata con la retrocessione, dagli errori si può trarre insegnamento per il futuro ma a posteriori che cosa non ha funzionato principalmente? Ciao Antonio e grazie di essere presente oggi qui ad Altino Che cosa non ha funzionato? Abbiamo affrontato un campionato di A2 ed era la prima esperienza sicuramente abbiamo fatto degli errori, ho fatto degli errori e me ne assumo tutte le responsabilità naturalmente abbiamo pagato lo scotto del salto di categoria però ti posso dire che è stata un'esperienza bellissima abbiamo incontrato delle società di altissimo livello con cui ci siamo confrontati sicuramente non abbiamo sfigurato per l'organizzazione e quant'altro abbiamo fatto male purtroppo in campo ma diciamo la prendiamo è andata così e adesso guardiamo avanti Probabilmente si è fatto sentire anche il fattore pubblico i tifosi sono stati presenti però era tutt'altra cosa giocarla qui ad Altino Beh assolutamente, considera che noi ci allenavamo a Francavilla qualche volta ci siamo allenati ad Altino giocavamo a Lanciano solo le gare casalinghe quindi è stato anche un anno un po' pesante proprio a livello di organizzazione e tutto però adesso ce lo mettiamo alle spalle e guardiamo questa nuova avventura che affronteremo in questa nuova stagione Una nuova stagione che si apre all'insegna della riscossa del pronto riscatto e a giudicare anche dall'allestimento del roster mi sembra che le premesse siano più che fondate per un ottimo campionato Sicuramente abbiamo rivoluzionato un po' il tutto dallo staff tecnico a tutto il roster a parte qualche riconferma tra cui Natalizia e Giovanna Papa poi sono tutte nuove e anche lo staff quindi siamo molto fiduciosi come hai detto tu è un roster competitivo poi sarà del campo a dirci la verità Prima di parlare delle nuove arrivate due battute sullo staff tecnico perché c'è stato qualche contrattempo non voluto ad inizio stagione Ma assolutamente eravamo partiti con Simone Giunta che poi ha dovuto lasciare per problemi personali a cui va il mio saluto e un grosso in bocca al lupo e quindi diciamo poi in corsa è subentrato Nino Gagliardi che non certo ha bisogno delle mie presentazioni mentre come secondo allenatore è rimasto Matteo Dell'Anna per il settore giovanile c'è Alessia Papa e poi abbiamo il preparatore atletico Mimmo Di Muzio Poi le spenderemo anche in conclusione delle parole sul settore giovanile però per quanto riguarda le nuove arrivate ci sono delle nuove entrate in assoluto ma ci sono anche alcuni volti che noi abbiamo già avuto modo di seguire proprio qui alla Silvestrina Sì, ci sono i ritorni di Alessia Monteghiadini e Camillo Razzi che diciamo hanno fatto il loro primo percorso pallavolistico di B1 e B2 qui ad Altino poi ci siamo lasciati per tre anni adesso sono ritornate qua ad Altino e siamo tutti contenti E invece le altre? Le altre sono tutte giocatrici che comunque hanno giocato in B1 e hanno fatto anche i campionati di vertice quindi lo sai non mi piace parlare delle singole persone però ti posso dire che Isoster è completo in tutti i ruoli e sono tutte giocatrici di categoria e quindi ci aspettiamo un buon campionato Avete già avuto modo di scrutare le avversarie? Ma diciamo che il girone, questo centro nord è sempre un girone tosto lo sappiamo, abbiamo affrontato 3-4 anni ci sono squadre importanti tra cui Bologna, Trevi, Imola, Iesi ci sono tante squadre tante squadre che ogni partita sarà una battaglia Altino è presente, ci sarà e lotteremo in ogni gara come sempre A livello di costi che cosa cambia rispetto a una A2? Ma che cosa cambia? Cambia molto nelle trasferte perché le trasferte in A2 sono lunghissime quindi questo è un dato di fatto proprio poi diciamo i costi sono quelli sicuramente di meno della A2 ma è un budget importante anche quest'anno E' una società quella dell'Atenaglio Altino Volle che ormai qui è sulla piazza da diversi lustri con lo zoccolo duro della famiglia Papa poi ci sono dirigenti che vanno e vengono però diciamo siete voi quelli che reggono principalmente il timone? Sì sì, diciamo oramai siamo un gruppo consolidato di 6-7 persone naturalmente con degli sponsor che ogni anno abbracciano il nostro progetto e di cui io sono molto orgoglioso perché vuol dire che lavoriamo bene e hanno fiducia in questa società posso citare la ditta Tenaglia Arrizza SRL, Airmoving, Lisa SRL, D'Alonso Assicurazioni questi diciamo sono lo zoccolo duro della nostra società poi ci sono altri sponsor più piccoli che comunque ci danno il loro contributo di cui veramente siamo contentissimi io spero che il mio augurio è che si avvicinino ancora più persone oggi che siamo ritornati ad Altino perché la pallavola ad Altino è un qualcosa di importante e va valorizzata deve essere un motivo di orgoglio per questo paese e l'amministrazione comunale a tal proposito porgiamo le più sentite condolianze al sindaco Muratelli perché proprio il presidente Anello Papa all'arrivo qui alla Silvestrina mi ha comunicato la notizia della perdita della cara mamma del sindaco Muratelli dicevo l'amministrazione comunale che cosa ha fatto per far sì che questo impianto fosse a norma rispetto agli anni scorsi? Sì è giusto dare le nostre condolianze la nostra vicinanza al nostro caro sindaco per la perdita della cara mamma da parte di tutta la società Altino Volli niente l'amministrazione che ha fatto ha fatto l'adeguamento ai fini della sicurezza di questa struttura è un lavoro di adeguamento fatto nel corso di questi anni e finalmente oggi possiamo essere contenti di poter ritornare in questa palestra a giocare e ad allenarci come dicevo concludiamo con due battute sul settore giovanile il vostro fiore all'occhiello tra l'altro alcune delle atlete della prima squadra provengono proprio dal settore giovanile Sì guarda con il settore giovanile negli ultimi anni siamo cresciuti a dismisura veramente con dei numeri importanti abbiamo fatto un percorso di 5 anni e mi va di ricordare Marcela Corso che ha lavorato molto bene ad Altino affiancata poi da Alessia Papa che ha preso le reti in mano poi del settore giovanile l'anno scorso devo essere sincero abbiamo ottenuto dei grossissimi risultati l'anno scorso abbiamo perso se non ricordo male tre finali abbiamo lottato quasi in tutte le categorie a livello provinciale e regionale quindi siamo soddisfatti Ultima domanda il campionato inizierà a ottobre quindi c'è ancora tempo e quindi c'è anche spazio per molta preparazione una preparazione dura come abbiamo visto oggi perché si fa la doppia seduta almeno per il momento il campionato inizierà il 7-8 ottobre la prima partita andremo in trasferta a Modena quindi ci stiamo preparando abbiamo sei settimane per prepararci ci saranno delle amichevoli tra cui qualcuno a portare ad Altino poi pubblicheremo il programma delle amichevoli così apriremo le porte del Palace in Vestrina Da precisare che non abbiamo visto il mister oggi perché è impegnato con la nazionale lo ricordiamo il mister della nazionale under 19 quando arriverà il mister e arriveranno nuove atlete oppure diciamo l'organico è a posto così? No, l'organico è completo il mister gli facciamo un grosso in bocca al lupo per gli europei della nazionale under 19 attualmente sono esitito quindi lui rientrerà in Italia il 5 settembre e si metterà subito a disposizione della società per cui un grosso in bocca al lupo a lui e un grosso in bocca al lupo a noi poi voglio ringraziare le persone che diciamo sono più vicine a me tra cui Michele Vedratti, Gabriele il nostro dottore Rucci, Vincenzo il fisioterapista e tante altre persone che ci seguono per il settore giovanile ringrazio Rossana Francesca e tutti i genitori delle ragazze che ci accompagnano sempre da tutte le parti sia con la prima squadra che con i loro bambini e poi in ultimo il nostro caro Enzino da ringraziare per tutto il lavoro che fa presso la nostra palestra silvestrina grazie a tutti veramente grazie a tutti